Nell'anno in cui Hollywood prende finalmente atto del sottobosco di molestie e violenze sessuali che la infesta, non poteva che fare incetta di premi una miniserie splendidamente scritta e altrettanto splendidamente recitata come Big Little Lies, storia di abusi familiari e solidarietà femminile interpretata da Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shalane Woodley e Laura Dern. La miniserie targata HBO è una piccola perla di sette puntate che aveva avuto una sua conclusione a sorpresa. Visto il grande successo però, non sorprende la notizia di una seconda stagione, dal momento che sulle mamme di Monterrey c'è probabilmente ancora molto da raccontare. La notizia del giorno è che alle mamme che abbiamo già avuto modo di conoscere se ne aggiunge una nuova, Meryl Streep, che interpreterà la madre di Perry Bright. Questo ha valore ai rumors che volevano anche il ritorno in scena di Alexander Skarsgård, ma ancora non sappiamo se è in carne ed ossa o soltanto grazie a dei flashback. Big Little Lies ha fatto incetta di Emmy e di Golden Globes, vincendo poi anche diversi Saga Awards e Critics Choice Awards. Possiamo quindi dire, senza timore di essere smentiti, che è stata la serie dell'anno, e ora l'innesto di un nome come quello di Meryl Streep non fa che impreziosire un cast già di altissimo livello. Sono poche le anticipazioni di questa seconda stagione, che vedremo presumibilmente nel 2019. Oltre all'arrivo della Streep nei panni di Mary Louise Wright, madre di Perry, giunta a Monterrey per occuparsi dei nipoti, è prevista anche la presenza dei genitori di Bonnie, Zoe Kravitz. Forse non è un caso che le new entry vadano ad investire le vite delle persone maggiormente coinvolte nel finale di stagione. Non resta che attendere per vedere la seconda stagione di Big Little Lies. Grazie a tutti.